eccoci qua oggi il 27 2021 per fare il video dello shop con giucci capital arlot buonasera a tutti ciao a tutti i pizzerini oliver che non parla con tommasino ed henry allora iniziamo negozio vai per chi deve dire la prima riga che non mi ricordo io ma troviamo il bundle un po veloce dai guaco l'event 2k con balletto copertura le due skin i pezzi singoli e fine bello però il balletto tacco manina tacco forever mai di seconda riga allora ragazzi buongiorno allora c'è potassio maximus che è talmente punto che assomiglia quasi da besciamella per giucci grado di potassio si era semplice spada quindi non c'è che ci facciamo molto caso assassina atletica con i suoi pompon che sembra molto il parco della season 4 però c'è delle belle cappette e imperatrice che era un backpack che era raro per ora non più troppo carino però questo backpack il cagnolino bene terza riga c'è il bundle tutto matrix tutto bello poi c'è un edron pisciato sotto poi con il backpack tutto spigoli che ogni spigolo che becchi fa la cacca iso iso ogni volta che fa c'è ogni volta che ama il so tommasino il backpack di iso mi fa venire in mente una frase allora il backpack di iso no 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 poligono pirotecnico che significa molto vai scattare il rischio col cuo poi picco nasse che assa tutti c'è qualcuno che sta litando nel microfono io non so superficie superficie sfaccettata suprema che quando va in superficie è la cacca anche quella perché tanto quando descrivi te tutto fanno pisci a cacca no ma infatti sta già facendo la pipì ok poi giornalieri chi è che lo deve fare io vai ale come ignorante gli stai guardando le cappette le tettine ale no ve li so ci sono chiamato anche oggi brazzare poi c'è il rinnegato che diego non si possono vedere tanto io ce l'ho il rinnegato il supremo non solo che io sono feticista quindi vedi piatti non mi piace ce l'ho giubilo supremo poi c'è giocchieria giocoleria non potete vedere gli occhi da gli nastro quanto sono grandi poi c'è concentrazione pura mi sembra oliver tipo che scende dalle scale col telefono ce l'ho anche questo tutto poi c'è giubilo 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 poi c'è concentrazione pura ok bellissima c'è giubilo poi va bene abbiamo già visto stravisto anche già rotto le palle brigata stendardo mettiamo solo le tipe che così guardiamo il culetto le chiappette perché so che non prendere i maschi si devono prendere bene le vede gialle che i maschi fanno un po cagare e delle skin effetti ma fate chi minchia le prende poi aspetta faccio un sondaggio le palle un sondaggio un sondaggio allora e mail in chat trovo così stendardo mantello o scudo stendardo ora ho fatto partire da seguire la mondiale probabilmente però vabbè ok diteci che quale skin vi piace di più di quelle stendardose ma con quale fisica ha detto stendardose io come puoi dire una mia frase poi abbiamo il pacchetto ombra che l'abbiamo già visto mille volte però io ce l'ho io ce l'ho quindi direi che ale puoi dire la tua fase chi non mette il codice che ti scordo deve schiacciare i ricicoli culo e chi non ci ci aggiungi deve schiacciare i ricicoli culo anche lì bravissimo non devo neanche mettere la frase vai schiacciare i ricicoli culo aspetta facciamolo dire eccolo facciamolo dire da lui che oggi ce l'abbiamo di solito devo mettere l'audio stasera questo è un bel sito un bel sito ragazzi supportate il creatore Diego iscrivetevi al canale mettete la campanellina altrimenti andate tutti a schiacciare i ricicoli culo la campanellina e questa questione la campanellina iscrivetevi al canale